E questa è la scheda personale di Megan Mantaner attrice spagnola e modella di successo, ma che in Italia è molto famosa in quanto è proprio l'attrice interpreta Peppa Aguirre nella fortunata fiction Il Segreto. Il suo vero nome per intero è Megan Gracia Mantaner, è alta 1,69 cm ed è nata a Guesca nel 1987. Non tutti sanno che la bella Megan Mantaner all'età di 16 anni è stata vittima di un pauroso incidente che le ha portato anche alla rottura della dentatura che però non è evidente. Ha iniziato a lavorare per la televisione proprio a Guesca come make-up artist, ma le sue apparizioni nella televisione nazionale sono a Telecinco con la pecera di Eva e con Walevilotto 714. Nel 2010 il grosso salto di qualità per Megan Mantaner quando viene chiamata a lavorare per l'emittente spagnola Antennatre nella Tormenta, un vero successo in Spagna e l'anno successivo con Megan Mantaner viene scelta come Peppa nella fiction Il Segreto con Alex Gadea, Tristan, e a lei Andra Onieva e Jonas Berami, Joan Castaneda. Oltretutto si tratta proprio dello stesso attore che adesso è impegnato come tronista nella nostra trasmissione Uomini e Donne. Al culmine del suo successo Megan ha deciso di abbandonare il ruolo di Peppa Aguirre nel Segreto per aprirsi a nuove esperienze televisive che la possano gratificare come di Inza Zypsilon Perez dove l'attrice interpreta il ruolo di Adela Oimporumpuna do De Bees nel ruolo di Lydia. Alex Gadea e Megan Mantaner Megan Mantaner ritorna come Peppa Aguirre. Ma forse per i fans italiani dell'attrice la novità più bella è l'idea dei produttori di Antennatre di farla rientrare nella fiction Il Segreto. Ricordiamo che di fatto la tomba di Peppa Aguirre per il momento è sempre risultata essere vuota e Tristan interpretato dall'amico Alex Gadea appare veramente inconsolabile. Grazie.